che fai di bello studio il corpo di bill vieni prova con questa wow ma che strani colori questa è una termocamera ci fa vedere il nostro corpo in blu le parti fredde e in rosso quelle calde questo è molto caldo come braccio invece i capelli sono freddi e guarda se faccio così si scalda ma quindi bill è freddissimo copriamolo toy center l'ha scelto per me